Amici di Fano TV, buonasera, buonasera da Sergio Catalani che vi parla dello Stadio Pacifico Carotti di Iesi dove le squadre di Alma Juventus, Fano e Iesina stanno per fare l'orengasse in campo davanti a una bella connessione di pubblico Il colpo di testa, attenzione, il tiro e il gol della Iesina e segna la Iesina su una attenzione difensiva Borrelli, la palla termina in rete! Davide! Borrelli! Uno a uno! L'ha messa direttamente dal calcio d'angolo Intanto il gol! Borrelli che mette dentro e c'è il gol di... ci è sembrato Gucci! Ci è sembrato proprio Nicolo! Gucci! Il Fano va in vantaggio, fa vedere la qualità tecnica, Favo verso Sivilla, Sivilla la palla è buona per Sivilla Andrea! Sivilla! È il terzo gol! Il gol di Sivilla, il diciottesimo! Bianchi entra in aria, Bianchi! Mette nel mezzo, c'è Gucci e c'è ancora gol! Nicolo! Gucci! 4-1 e doppietta personale! Borrelli, intanto il Fano ha spazio e naturalmente va a nozze Il tocco verso Clemente, va tutto da solo Clemente, Clemente, cost to cost di Clemente Clemente, 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 Clemente alla grande! Il tiro di Clemente! Meritava veramente gioie maggiori! Grandissima giocata! Borrelli ora spostato a destra, prova a innescare Sivilla C'è Gucci, Tavoni ci arriva e salva ancora, poi ci fa male C'è Sivilla, l'anticipo di Calcina, Sivilla intanto la posizione è regolare Punta l'avversario, Sivilla, 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 ancora Sivilla Il tiro! La parata del portiere, poi c'è Olini! Sivilla ci ha provato Con un'azione bellissima! Dari anticipa l'avversario, c'è Sassaroli Mantiene la palla in campo, va via Mattia Fa tutto da solo, Sassaroli Con le buone, ma soprattutto con le cattive, nessuno ci riesce Sassaroli poi alla conclusione, il tiro smorzato Finisce qui la partita, in un secondo tempo giocato davvero di pura accademia Applausi del pubblico, Granata con il Fano che maramaldeggia al Carotti di Iesi, 4-1